Ciao a tutti fringuelli, oggi parliamo del FORZ ETAP AXS, il gruppo SRAM elettronico, reggetevi bene, a 12 velocità. Quello in sostanza che era montato sulla mia VR Monza e che ho avuto la fortuna di provare per molti, molti chilometri. Quindi adesso buttiamoci a bomba dentro questa super recensione. Il FORZ ETAP AXS non è il gruppo top di gamma, della gamma stradale SRAM, ma è il gruppo subito dopo all'ammiraglia del gruppo SRAM, ovvero il RED ETAP. Anche questo però è un gruppo a 12 velocità, completamente wireless, che eredita tutta la tecnologia del gruppo RED ETAP di SRAM. Ovviamente pesa un pochino di più e offre una finitura leggermente inferiore. FORZ ETAP AXS, così come il gruppo RED ETAP, è disponibile in entrambi le configurazioni, una moltiplica o due moltiplica. E tutti i suoi componenti sono compatibili con l'ecosistema AXS. Questa recensione tiene in considerazione l'allestimento che io avevo montato sulla VR Monza, ovvero la versione a due moltipliche con freno a disco idraulico. Le leve dei comandi hanno la stessa configurazione estetica e anche la stessa robustezza della versione RED. Le cappe sono sostanzialmente le stesse e sotto di esse trovano alloggio i due cilindri idraulici. A differenza del gruppo SRAM RED, lo SRAM FORZE non ha le leve dei comandi in carbonio ma in plastica. Questa ovviamente è una rifinitura molto più economica. Ho sempre parlato molto bene dell'ergonomia delle leve dei comandi che sono facilmente raggiungibili, facilmente ben impugnabili e questo rende la gestione dei comandi e il controllo dei freni perfetta. Unica pecca secondo me di questa perfetta ergonomia delle leve sono i cappucci che nascondono al suo interno i serbatoi idraulici che sono effettivamente molto vistose e molto robuste. La cambiata del gruppo FORZE SRAM ETAP AXS funziona allo stesso modo dei precedenti gruppi ETAP con una singola grande paletta su ogni lato che si occupa di alzare o abbassare la catena sul pacco pignone. Mentre per scendere o salire di moltiplica occorrerà premere contemporaneamente le due palette a destra e a sinistra. Quanto riguarda la facilità di cambiata devo dire che è ottima anche se il gruppo SRAM non si vantava in passato per la facilità di cambiata devo dire che qua gli ingegneri hanno fatto un notevole passo avanti. Ormai SRAM ha raggiunto il gap tecnologico che la separava da Shimano con la configurazione sequenziale del cambio che può essere fatta attraverso la sua applicazione. Allo stesso tempo SRAM come Shimano permette attraverso la sua applicazione di regolare il cambio anche in modalità sincronizzato. Ovvero ogni qualvolta si cambia la moltiplica all'anteriore si ha anche una cambiata al posteriore per permettere alla catena di essere sempre alla giusta tensione evitando così bruschi salti di catena. I due deragliatori anteriori e posteriori che portano con sé le batterie sono a mio avviso molto ma molto belli e molto più belli rispetto di quelli Shimano. Ecco per quanto riguarda l'estetica secondo me SRAM non la batte nessuno. Come dicevo le batterie sono alloggiate direttamente sopra i due deragliatori sono estraibili e sono ricaricabili attraverso il caricabatterie che viene fornito insieme al gruppo. SRAM garantisce 20 ore di pedalate consecutive con queste batterie ma questo ovviamente dipende dal tipo di pedalata che uno ha dal tipo di cambiate e ovviamente dalle condizioni atmosferiche che trova il ciclista durante la sua corsa. Avendo le batterie separate e questo è un grande vantaggio è possibile comprare più pacchi batterie e portarseli con sé nel caso di grandi pedalate e andarle a sostituire ogni qual volta il gruppo si esaurisce. Il deragliatore posteriore del gruppo force SRAM deriva direttamente dal gruppo top di gamma dal ETAP SRAM AXS e quindi anche questo lavora con 12 velocità, 12 rapporti ed è stato costruito, studiato e revisionato per sostenere il lavoro di 12 pignoni. A differenza del gruppo red il gruppo force di SRAM ha una guarnitura molto più accessibile, molto più economica, non è un monopezzo in alluminio lavorato ma le due corone sono sostituibili singolarmente cosa che invece non avveniva nel gruppo red. Come si diceva all'inizio il gruppo force SRAM prende molti concetti del gruppo red ma li sostituisce in maniera molto più economica, infatti anche questo gruppo è a 12 velocità ma a differenza del gruppo red che utilizza una cassetta pignoni a 12 velocità, molto costosa perché è ricavata da un singolo blocco d'acciaio, il gruppo force utilizza un design più economico con i tre ingranaggi più piccoli fusi insieme e tutto il resto invece assemblato pezzo per pezzo. Per quanto riguarda la catena questo è uno dei pezzi forti del gruppo SRAM force che deriva direttamente dal gruppo red SRAM, la filosofia della catena è la stessa del gruppo red ma a differenza del gruppo red i perni sono pieni, non sono cavi quindi pesa leggermente di più però la testa piatta, la parte alta della catena è tutta appiattita per permettere una più agevole trasmissione dei rapporti e della potenza. Questo brevetto viene chiamato flat top e consente appunto una catena più stretta con più spazio tra gli ingranaggi senza comprometterne però la resistenza. I freni sono fantastici, è un freno a disco idraulico con un disco che all'apparenza sembra molto leggero e una frenata anche questa molto modulabile. Per quanto riguarda il peso SRAM fornisce questi dati, un gruppo force etap AXS con freni a disco idraulici due moltipliche pesa 2,815 kg con corona 48,35 denti, pedivelle da 175 mm, cassetta pignoni da 12 pignoni, 10,28 e rotori in acciaio da 160 mm al posteriore e all'anteriore. Con questa configurazione il costo è di circa 1600 euro. Siamo arrivati quindi adesso alla fine di questa recensione e come sempre ecco il mio giudizio avendo avuto la fortuna di provarlo. Un cambio fantastico, mi sono trovato molto bene data anche la sua velocità, rapidità e precisione di cambiata. La trasmissione è un pochino rumorosa ma non così troppo da disturbare diciamo la pedalata. Un gruppo molto buono con un'ergonomia fantastica, con delle cambiate fantastiche anche se la cambiata da cui provenivo era quella del mondo Shimano. Mi sono trovato subito bene con questo nuovo sistema. Freni a disco idraulici molto precisi ma soprattutto modulabili e questa è la vera novità dei gruppi con freni a disco. Cioè si può modulare fantasticamente, passatemi questo analogismo, la frenata senza avere nessun tipo di problema. Un altro vantaggio è quello che essendo senza fili, essendo molto semplice da configurare, è un gioco da ragazzi installarlo sulla bicicletta quando si parte da zero, cioè si parte a costruire la bicicletta da un telaio. Questo è un po' una chicca che lascio per tutti coloro che amano smanettare sulle biciclette e costruire da zero. Quindi io mi sono trovato molto bene, farò un video per comparare lo SRAM Force e TAP con lo Shimano 2 Race D2 per dirvi quale dei due è meglio, quali sono i pregi e i difetti, perché scegliere l'uno oppure scegliere l'altro. Bene ragazzi per oggi direi che è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buonanamente alla prossima, ciao!